Buongiorno, sono la maestra Antonella. Quest'anno lavoreremo insieme con i bimbi dei 5 anni nella sezione 3 di Winnie in preparazione alla scuola primaria. Sicuramente è una tappa molto importante che dà via a un nuovo e lungo percorso di vita. Buongiorno, sono maestra Rossana e quest'anno sono nuovamente con i vostri bimbi della sezione Winnie. Lavoreremo insieme per arrivare pronti all'ingresso della primaria. Buongiorno, io invece sono la maestra Sumona. Quest'anno sono anch'io con i vostri bimbi della sezione Winnie e lavoreremo insieme per arrivare alla scuola primaria. Ciao a tutti, sono maestra Roberta e seguirò per questo anno scolastico i bambini della terza sezione Winnie della scuola di infanzia distanzata. Vi presento il nostro sfondo integratore che ci accompagna tutto l'anno ed è arrivato un nuovo amico, Elmer l'Elefante Vario Pinto. Elmer è il nostro sfondo integratore, ci accompagnerà durante tutto l'anno scolastico per avvicinare i bambini e le bambine alla differenza, alla novità, attraverso una moltiplicità di stimoli e esperienze. Questo può aprire alla curiosità, alla guardia di conoscere e sviluppare un atteggiamento all'apertura, alla differenza e rispetto per ogni forma di vita. Attraverso la nostra proposta con l'amico Elmer del suo avventure avvicinerebbe i bambini alla conoscenza dell'ambiente natura, stimolando e sollecitando la loro curiosità per porre domande e formulare ipotesi, avvicinandoci con gran qualità a comportarsi correttamente, a rispettare ogni essere vivente. Il percorso educativo programmato vuole essere un valido strumento per favorire il benessere e la crescita del bambino attraverso gli obiettivi di apprendimento che si spallano su, i campi di esperienza, il sé e l'altro, l'ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini, il corpo in movimento, identità, autonomia, salute, immagini, suoni, colori, gestualità, arte, musica, un'ultimedialità, i discorsi e le parole, comunicazione, lingua, cultura, la conoscenza del mondo, numeri e spazio, fenomeni e viventi. Le nostre unità didattiche, ogni usa bimestrale prevederà una larga varietà di argomentazioni in misura di identità, autonomia, competenza e cittadinanza, così da raggiungere in ogni campo di esperienza due obiettivi prefissati e ben articolati in ogni schema di riferimento. Elber e le sue avventure seguono la civicità stagionale, avvicineranno i bambini alla conoscenza dell'ambiente natura, nel contempo saranno guidati a scoprire, apprezzare e rispettare l'altro e a comportarsi correttamente attraverso relazioni positive, pacifiche ed inclusive. La metodologia e le strategie didattiche risponderanno a criteri di efficacia e di flessibilità, orientati all'attenzione di specifici bisogni educativi di cui ogni bambino è portatore. La dimensione ludica, l'esperienza diretta, le attività di gruppo. Laboratori, circle time, giochi ludici li coinvolgeranno in un armonioso contesto di condivisione con il gruppo dei pari.